Quanti gol farebbe Alland in Serie A? La domanda nasce dal fatto che per la seconda volta consecutiva Alland è stato praticamente annullato da Acerbi che ha uno stile difensivo tipico di molti difensori italiani e quindi la domanda che vi facciamo è ma Alland renderebbe allo stesso modo in un campionato diverso alla Premier League e nello specifico nella nostra Serie A? Ovviamente parliamo di un attaccante da almeno 15 gol in Serie A Non è che sta dicendo che fa 8 o 5 Tuttavia Sono scatenati qui Ora Acerbi ancora una volta migliore in campo ieri come quasi lo era stato ieri Migliore in campo Barella ieri Va bene dai tra i tre migliori in campo Luzielinski e Barella Come lo era stato nei tre forse anche a Istanbul Ora va bene che Acerbi è un signore di Fessola Di 37 anni e me ne vengono in mente altre migliori Con cui Alland dunque soffre perché le finali o le grandi partite di Alland non solo in Europa ma anche in Inghilterra Finali di FK, finali di Community Shield Anche gli scontri diretti in campionato l'anno scorso soffrì con l'Arsenal, con Liverpool È un Alland che non segna mai E la storia ci insegna che Alland quando non segna mai si vede anche molto poco Ieri ha avuto quel bel diagonale uscito di poco Poteva essere una bella occasione però non si è mai visto Guarda Donato Sabino super chat Vi aspettavo per leggervi Più di 20 sicuro Beh è ovvio Però ecco il giocatore da 9 gol in 4 giornate Premier League io non credo Però è un giocatore che ha fatto 99 gol in 2 stagioni e 5 partite Secondo me ecco è un attaccante tra i 20 e i 25 C'è chi dice